E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video ci siamo con EpicSamuel, saluto. Ciao a tutti ragazzi, c'è un pochieee! Ok, allora è iniziata, lascia te, lascia te. Tanto che mi ammasso, corro! Ma son morto, guardami! No ma c'era il cubo, vabbè, eeeh, fornato. Eeeh, olè! No nel senso, pensavo di essere tolto Bowser! Hai vinto! Too bad! Vinto! Vai, facciamo un'altra! E' qua! E' qua! BASTARDE! Eeeh! Eeeh! No, ma i blocchi vanno! Sì, no, no, fermo, devo fare un test! Fermo! Metti i blocchi, però... Perfetto, facciamo dopo. Oh, non di nuovo, eh! Zio! Vuoi mettere un flashback? Eh? Vuoi mettere un flashback? Vero? Porco zio, porco zio! No! No, no, no! Stimo, non mi faccio i blocchi, sta merda! Porco zio, porco zio, porco zio, porco zio! Sal, sal, non mi va! Fermo! No, no! Minchia, sei bel cumpio, ora è la tua fine! Grazie! Bastardo! Bastardo! Sei un bastardo! Sì, vabbè! Voy Me va tan custo Gajajajajaj E' qua, mancaggi quella! Ma che vedo che lasciate ossa? E' morto? Ah, è filato! Grazie zio, tu hai un mucchio di bene Ah, è venuto stavolta Ragazzi, il video di oggi face c'è qua, spero che vi sia venuto in un prossimo video, ciao!